L'Ostia Antica non esce dal periodo negativo in cui è una foregata nelle ultime nove partite, soltanto un pari contro il Tulfa 1-1, i gol di Montironi per gli ospiti e Florez per la squadra di casa. Abbiamo giocato bene, siamo in fase di crescita ora, perché era un periodo dove su otto partite perdiamo, pareggiamo, oggi potevamo fare un pochino di più, su qualche situazione da fermo potevamo sfruttarla meglio, su una situazione da fermo abbiamo preso gol, quindi su quella cosa dobbiamo migliorare tanto. Questa è una partita che dovevamo portare a casa, purtroppo siamo lì giù, forse ci mancano quei 7-8 punti che in qualche partita abbiamo perso per mancanza di esperienza, perché la squadra è giovane, adesso vediamo un po', dobbiamo mettere giù la testa, correre in allenamento e con tanta voglia uscire da questa situazione brutta. Sono contento più che altro del punto, era tanto che non facevamo punti, preferivamo fare una vittoria oggi in casa soprattutto, ma va bene anche il pareggio. È un momento un po' particolare, dove non ci dice bene, però i ragazzi stanno lavorando bene, ora speriamo che l'infortunio che gli è capitato a Turazza non sia niente di serio, perché per noi era importante, è importante David. Ci sta in una stagione un po' tormentata, però sono convinto che ci risolleveremo, perché ho visto segni di ripresa, con un po' di fortuna in più, oggi abbiamo avuto un'occasione clamorosa, credo, con un batti-ribatti, non so come quella palla non sia entrata. Comunque faccio complimenti anche al Tolfa, perché è una squadra ben organizzata, devo dire che è un girone veramente molto competitivo, quindi diremo la nostra fino alla fine. Sarà da valutare nelle prossime ore l'infortunio a David Turazza, intanto il prossimo impegno dell'Ossia Antica sarà ancora qui all'Aldo Brandini contro l'Uni Pomezia. Da Ossia Antica per Calai 10, Valerio Nasetti.